Scaldate i motori per una produzione Activision! Allacciate le cinture per un'altra creazione di Pinox! Tutti i modi 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 per un'altra creazione di Pinox! Benvenuti in questo video sono Gionel95 e siamo su CTR Nitrefused! Vi avverto subito che non sto benissimo, quindi non sto in forma Però vi devo registrare questo video! Adesso partiamo perché se no perdiamo troppo tempo! Devo stare su 40 minuti! O poco più! Insomma diciamo lì! E ho qualche problema di salute! Dovete saperlo! Lo scrivete in un commento! Però quando vedrete questo video sarà passato un po' di tempo! Quindi non ha senso! Vi avverto! Eeeh... Vabbè però! Però sono qua che per registrare il video! Quindi va bene! Andiamo al Pistop! Se c'è qualcosa di interessante! Se c'è la Panda che ce l'ho già! Pistacchio dolce! No! Pistacchio dolce puoi anche tenertelo! Facciamo aggiorna! Allora c'è... C'è... C'è Tauna che ho già! Quindi possiamo aggiornare un'altra volta! Quello che voglio io non esce! Questo c'è lì però questo qua! Ah! Devo prendere solo con l'astronauta! Vabbè! Eeeh... No! Insomma! Vabbè! Eeeh... Discorsi a parte! Arcade locale! Siamo quasi alla fine! Quindi avete tempo per dirmi ancora se il football vi può piacere! Però io ve lo porto lo stesso! Però ve lo saprei anche la vostra opinione! Eeeh... Battaglia! Che battaglia! Perché le gare di coppa non fatte! Anche se le gare di coppa non ho fatte le difficili! E le farò off camera! Perché non voglio annoiarvi! Quello è già fatto in normale! Quindi penso che sia sufficiente per voi! A me è che non voletevi all'edificio! E se proviamo in live! In live si potremmo provare! Però non penso che vi interessi! Io direi che lo faccio off camera! Così dopo che avrei fatto il football! Faccio off camera! Adesso partiamo! Che sennò perdiamo un sacco di tempo! Caos magnetico! Tempeste di sabbia! Tempeste di sabbia vi ho fatte ed è molto bella come vista! Caos magnetico! Vediamo! C'è l'edificità! Magneti! Caos! Un livello puro caos! Vediamo la mappa com'è! Mappa caos magnetico! Vediamo! Vediamo! Caos magnetico! Ok! Questo è giusto! Sì! Dopo manca solo teradromo eh! Dio è finito! Caos magnetico! Battaglia con limiti! Ok! Facciamo! Sempre! Pun! No! Vite! No! Tempo! Sei minuti! Team! Nessuno! Set! Ok! Poi la normale e la difficile me le faccio per i fatti miei eh! Per completissimo devo fare anche in modo che è normale e difficile! Però la devo fare per i fatti miei perché è difficile quindi ci verrà un sacco di tempo! E non voglio annoiarvi! Conferma! Personaggi! Allora! Mi sembra di aver usato crunch nello scorso episodio! Credo! Quindi secondo me devo usare le trofigure! Isabella! Vediamo! Ah! Isabella Neon! Possiamo usare anche lei! Però motorsport secondo me è molto più bella eh! Girchens! Questa è Girchens! Sì! Ok! E quella dello spazio! Me ne manca una da sbloccare! So che devo vincere quindi ad aiutare con lei! Non so quante ne ho vinte adesso ma vabbè! Io userei Isabella Neon! Perché non mi ricordo se l'avevo usata! Vai! Partiamo! Mentre vi spiego! Allora! Una cosa che questa che vi avevo spiegato già in altre volte! Non troverete non sto tanto bene quindi cercherò di limitare! Allora dove c'è un bruciore c'è un... Non sto bene! Ehm... Quindi vi avevo già spiegato altre volte! Allora! Dopo questa... Questa battaglia qua! Questa qua! E quella dopo! Che non so chi guarderà questi video! Quindi ve lo dico in più video possibili! Ehm... C'è il... Ehm... Io inizierò il football! Così ho il tempo! Off camera! Di farmi tutte le difficili! Tutte le prova tempo! Tutto quello che c'è da fare! Ehm... Bella! Chaos magnetico! Ed engine questa! Bella! Mi piace! Ma si spostano quelli! Ok! C'è un casino! Non è un peccato! Peccato! Quindi dopo vi farò il football! Così avrò il tempo! Questa cosa attiva! Ah! Facendo quello centrale! Ok! No! Girati! Girati! Prendi questo! Ah! C'è il trasportatore qua! Ah! Quindi si sposta! Qua vado più dentro! Poteva al contrario! Infatti vado all'indietro! Gira! 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 Sono caduto! Avevo provato! Muore la cassa! Facciamo punti! Meno uno! No! Va di negativo! Ok! E non l'ho beccato! Strano! Ah! E' che becco quello lì! No! Ero lontanissimo! Se lo beccavo! Mi hanno beccato me! Se mi dessi dei poteri... Decenti! Zero! Ho fatto un punto! No! Cavolo! Cavolo! Eh vabbè! Neanche una cassa prendo! Eh! Prendo la cassa e poi cado! No! Mi ha preso con la maschera! Eh vabbè! Me le casse! Me le fregano! Sono in negativa! In tre minuti! Quasi tre minuti! Non l'ho fatto nessun punto! Ora devo beccare qualcuno con la sfera! Ah! Quello è caduto! Eh! Adesso l'ho caduto anch'io! Pensavo di andargli addosso! Invece è caduto! Qua non si può salire! Io devo stare al centro! Ok! Devo stare in più azione! Oh! Meno due! Vado in negativo ragazzi! Vado in negativo! Invece di fare più uno più due più tre più quattro! Faccio meno uno meno due! Sono in... Cioè... Quando è che beccate un giocatore che fa meno due? Cioè sono l'unico! Poi ci sono più casse però secondo me! Casso magnetico è bella come pista però è un caos! Vabbè! È ovvio che sia un caos! Meno due! Meno uno! Sto recuperando! No! Qui stavo per cadere! Ok! Meno uno eh! Sto cercando di uscire dal meno! Ho bisogno di salire lì sopra però va bene! Vero! Non so più in negativo! Eh però non ho fatto nessun punto! Occhia dove passi! Devo fare in giro sempre di qua! Oltre a prendere le vele! No! Aveva fregato la cassa! Grosso enorme in testo! Uh! Buono! Non... Non la cassa è buona eh! Vedete qua che vi investo! 3 punti! Attenzione recupero! 4! Ho fatto un recupero! Incredibile! Vieni qua che ti lancio una bomba bullying! Per favore! No! Si è buttato! Megamizza in testa! Ok! Cadono molti nel... Nei rulli! Grosso enorme in testa! Ma il grosso enorme è sempre in testa! Stai litigando per arriva primo forza! Io sono solo 4... Ha 6 punti! Beh beh allora! Ho fatto dei punti senza saperlo ma... 6 punti... Va bene! L'importante è vincere almeno una delle 5 gare! 5 battaglie che devo fare! Ma sono tutti qua! 7! Beh almeno 7 punti li ho fatti! Ho recuperato anche il negativo! E nemmeno 2! 7! Ah guarda! Gli altri non avevo fatto tanti punti! Si è arrivato quarto! Va bene! Va bene a quarto! Pensavo di essere arrivato ultimo! C'è uno che ha fatto meno uno! Qui non ero l'unico che ha fatto il negativo! C'è una cosa incredibile fare il negativo! Non è facile fare il negativo eh! Cioè! Io ci sono riuscito! Mancavano 2 punti e poi arrivo primo! Eh! Se riuscivo a peccar qualcuno e se non andavo in negativo ce la facevo! Perché ero meno 2! Quindi meno 2 più 7! Queste sono 9 punti di differenza! Se sapete un po' la matematica! Vabbè! Grosso nome ha vinto! Insetto schiacciato! Non mi piace come nominativo però grazie! Poveri insetti! Eh! Va bene! Anzi poveri insetti perché è singolare! E non sto bene! Non sto bene! Che bello! Proprio bello il terbieno! Esci! che bello... Talla scolica... Grazie per la visione!